Cavolo, in poco più di due anni sono riuscito a diventare il migliore d'Italia, perché non posso provare a essere il migliore del mondo? Marciando verso Parigi 2024, questo è un esercito di novità, insieme seguiremo gli atleti del Centro Sportivo Esercito che parteciperanno alle prossime Olimpiadi. RTL 125 News La marcia verso Parigi 2024 inizia con il caporal maggiore e pugile Diego Lenzi, benvenuto Diego. Buongiorno a voi. Ecco, non fatevi ingannare dal titolo caporal maggiore, in realtà Diego è giovanissimo, giusto Diego? Possiamo partire da 23 anni? Sì, 23 compiti da poco. Ecco, Parigi 2024, partiamo da questo titolo, per noi una città e una data per te molto di più. Sì, sì, Parigi è il coronamento di un sogno che poi si è trasformato in un obiettivo, perché se quando iniziai a boxare era un sogno lontanissimo, poi pian piano vincendo tornei eccetera, si è trasformato in un obiettivo che col duro lavoro ho raggiunto e sono molto contento di questo. Mi sono poi già posto subito i nuovi obiettivi che è quello di fare una bella medaglia d'oro a Parigi. Ah, quindi parti direttamente così. Prima Olimpiade, tu vuoi, dici, ho tutto o niente, è meglio essere ambiziosi al massimo. Mi piace, mi piace il tuo approccio e come dicevi hai vinto un po' e lo vediamo anche dall'inquadratura. Alle tue spalle c'è una sorta di teca celebrativa che stai arricchendo in realtà da soli quattro anni, cioè hai iniziato da poco questa esperienza del pugilato, ma da subito ti sei imposto sul piano nazionale. Sì, è solo quattro anni che boxo, sono sempre stato uno sportivo in realtà da quando ho tredici anni e anche prima che faccio sport. Da quattro anni da questa parte ho iniziato con la box e sono portato diciamo abbastanza talento, ho iniziato a vincere i miei primi campionati italiani under 22, poi italiani assoluti, poi convocato alla nazionale, gruppo sportivo esercito e adesso vado alle Olimpiadi. Ecco, se posso chiederti cosa ti ha portato poi a questa scelta? Cioè, solitamente se scegli uno sport da bambini, magari anche imposto dai genitori. Tu invece, essendo arrivato a questo sport in una seconda fase, l'hai proprio scelto, cioè hai proprio creduto, hai detto ok, eccolo lì, lo sport che voglio fare. Certo, sì, perché io ho sempre giocato a calcio, uno sport di squadra, però io odio perdere, perciò volevo trovare uno sport dove la vittoria e la sconfitta dipendesse solo da me, perciò ho scelto la pugilato, che è uno sport individuale, dove se vinco è merito mio, se perdo è merito mio. Tutto è basato su me stesso, c'era una palestra vicino a casa mia di pugilato, sono entrato, ho fatto i miei primi match e piano piano sono arrivato dove sono oggi. Bene, bene. E hai nominato prima il centro sportivo dell'esercito, ma come si diventa un atleta militare? Allora, si diventa un atleta militare partecipando al concorso che ogni anno esce sulla gazzetta ufficiale, servono dei requisiti chiaramente, essendo un concorso per atleti più titoli sportivi si hanno, più punteggio si ha in graduatoria, poi anche titoli di studio, tutti gli altri punteggi che servono in un concorso normale. Vincendo il concorso si diventa atleta dell'esercito italiano. Andiamo però nella quotidianità. Qual è la vita di un atleta? Come ci si prepara a un evento del genere? Immagino che la tua quotidianità sarà stata già particolare, cioè piena di allenamenti, con un'alimentazione ben precisa, ma probabilmente è stata stravolta ancora di più in vista di questo grande evento, in vista di questa prima Olimpiade. Sì, la vita degli atleti è per certi versi molto noiosa, nel senso che in un giorno ci si allena, si mangia e si dorme, basta. Quest'Olimpiade, la sto parlando così, come ogni atleta fa, è dalla qualifica d'ora, che mi sono qualificato a marzo, ancora di più. Infatti è dura, perché non esistono sbagli, non esiste nient'altro, se non la palestra, la dieta e il letto per il riposo. Però così bisogna fare. Anche perché poi, insomma, quando si hanno degli obiettivi ben precisi, anche in autoconsapevolezza, si annulla un po' il resto. C'è quella dedizione, c'è quella mira, quella destinazione e si vuole raggiungere al più presto. Io non ti voglio mettere ansia, però tu hai una doppia responsabilità rispetto anche ad altri atleti italiani, perché tu non solo rappresenterai il tricolore, ma rappresenterai anche l'esercito italiano. Questa roba non ti pesa un po' sulle spalle? È una pressione buona, però, che mi spinge ancora di più a fare bene ogni allenamento che capita, magari dove sono stanco, dove magari non ho voglia. mi ritorno in testa questa cosa che devo rendere fiero all'esercito italiano e l'Italia di me. Perciò spingo ancora più forte e perciò è una buona cosa questa cosa sulle spalle di pressione, di essere un atleta dell'esercito italiano e un atleta della nazionale. Qual è stato il momento in cui hai detto ok, credo che ce l'ho fatta, credo che questo è davvero il mio sport? Cioè hai iniziato a credere così forte da iniziare un cammino che poi ti ha portato e ti porterà a Parigi 2024? Beh, secondo me è sicuramente da quando ho vinto il mio primo campionato italiano, perché ho detto, cavolo, in poco più di due anni sono riuscito a diventare il migliore d'Italia. Perché io non posso provare a essere il migliore del mondo? Piano piano, allenandomi e poi grazie all'esercito italiano, che mi ha fatto diventare un suo atleta, questa cosa si è consolidata e sono diventato un atleta a 360 gradi. Perciò adesso facciamo sul serio. Ecco, facciamo sul serio, ricordiamo anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando come seguirvi, come fare il tifo per voi? Sicuramente sulla Rai daranno tutte le Olimpiadi, poi varie piattaforme, anche streaming online, daranno tutte le Olimpiadi, tutti i nostri incontri. E poi sulla pagina Instagram della Federazione Pugisca Italiana, sul sito, verranno fuori tutte le date dei combattimenti. Bene, allora noi ringraziamo il caporal maggiore Diego Lenzi per essere stato qui con noi. Che si dice? In bocca al lupo, buona fortuna, c'è un termine tecnico nel pugilato? In bocca al lupo va bene. Va bene. Però alla fine non c'è fortuna che tenga, solo duro lavoro. Sono d'accordo. Allora, in bocca al lupo al caporal maggiore Diego Lenzi, incrociamo le dita e continueremo sicuramente a seguirti. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie.